Oroscopo del giorno. Domenica, 31 marzo, 2019. Ariete. Amore. La situazione sentimentale subirà una deviazione brusca, ma positiva. Non ci sarà bisogno di gesti eclatanti, per avere la persona amata dalla vostra parte. Seducenti e affascinanti, i single faranno tante conquiste, e sapranno distinguere gli incontri migliori. Lavoro. Oggi ci saranno molte opportunità, per ricevere proposte piuttosto impegnative, ma attenzione ai cambiamenti. Toro. Amore. Oggi potranno esservi delle problematiche a livello familiare, che dovrete assolutamente risolvere. In presenza del partner. Unendo le forze, potrete fare progetti di coppia concreti. Buone notizie in arrivo per i single, possibilità di una relazione stabile. Lavoro. Nuovi risvolti nella fase lavorativa, potranno giocare a vostro favore, le idee brillanti non vi mancano di certo. Gemelli. Amore. Qualche piccola tensione in ambito amoroso, vi indurrà a cercare di trovare più tempo da dedicare al partner. In serata, avrete la possibilità di stare a fianco di chi amate. Nuove sorprese per chi è ancora solo, in vista e incontri interessanti. Lavoro. Il lavoro vi ha assorbito molto tempo nellultimo periodo, ma riflettendo, vi rendete conto che dè e valsa la pena. Cancro. Amore. Gli astri annunciano una fase molto positiva, per chi ha una storia d'amore in corso, meglio quindi rinunciare, alle trasgressioni da cui sarete tentati. I cuori solitari potranno fare bellissimi incontri, alcuni potranno trovare l'anima gemella. Lavoro. Finalmente arriverà la ricompensa del vostro duro lavoro, e anche se non sarà come vi aspettavate, non avrete di che lamentarvi. Leone. Amore. Il rapporto con il partner va alla grande, ci sarà tanto eros, e l'intesa proseguirà senza intoppi. Un imprevisto in famiglia però porterà scompiglio, ma recupererete in serata. Lavoro. Con il loro indiscusso fascino, i singoli riusciranno ad incantare tutti, saranno al centro dell'attenzione. Lavoro. Anche se i vostri successi subiranno un calo, tuttavia non ci sarà nulla di cui preoccuparsi. Vergine. Amore. Anche se non sarete molto in vena, troverete comunque quella energia necessaria per coccolarvi un po', con una breve gita fuori porta. Vi servirà per rilassarvi. La luna regala ai single, la lucidità, e le abilità necessarie, per vincere ogni confronto. Lavoro. Se avete intenzione di raggiungere obiettivi importanti, sappiate che oggi, è finalmente il momento per farlo. Bilancia. Amore. Oggi conoscerete persone nuove, e se siete single, potete valutare tutte le occasioni migliori per trovare l'amore. I rapporti a due meriteranno tutta la vostra attenzione, fidatevi della persona che avete accanto, e che per voi ha un significato speciale. Lavoro. Lavoro. Un piccolo litigio con un collega impertinente, potrebbe volgersi a vostro svantaggio, quindi, calibrate le parole. Scorpione. Amore. Non scoraggiatevi, oggi avete buone possibilità di fare colpo sul partner, e anche sulle persone che vi interessano. Se siete single guardatevi attorno, e prendete il coraggio a quattro mani, per affrontare qualcuno a viso aperto. Probabilmente vi aspetta. Lavoro. Potreste aver bisogno di tutta la vostra concentrazione, per risolvere un problema, che ormai vi trascinate da tempo. Sagittario. Amore. Giornata fantastica, l'atteggiamento del partner nei vostri confronti, in questo momento è disponibilissimo, e sia sul piano erotico che sentimentale, tutto va a meraviglia. Poche certezze per i cuori solitari, una persona oggi, potrebbe mostrarsi fredda, e distaccata. Lavoro. Anche se un affare che avevate progettato non andrà in porto, non ve la prenderete, avete già ottenuto tanto. Capricorno. Amore. Se il cuore vi dice di acconsentire, sgombrare subito il campo da ogni equivoco, e lasciatevi andare. Anche se vi sembrerà di non avere altre armi per farvi capire, basterà uno sguardo innamorato. Se siete single, qualcuno potrebbe criticare le vostre scelte, fregatevene. Lavoro. Cercate di riflettere bene su una questione lavorativa importante, da questa potrebbe dipendere il vostro futuro. Acquario. Amore. In questa giornata i litigi oggi non li sopportate proprio, e farete di tutto per mediare qualsiasi controversia con il partner. Cercate di agire con maggiore diplomazia. I single oggi potranno sentirsi agitati, e avranno difficoltà a mantenersi calmi. Lavoro. Oggi dovrete trovare delle soluzioni, per alcune situazioni che potranno creare dei problemi con i colleghi. Pesci. Amore. Oggi dovrete essere prudenti nelle scelte che farete, riguardo i sentimenti. Cercate di stare di buon umore, e godetevi comunque questa giornata ricca di sorprese. Guai in vista per i single, probabilmente, latrazione per una persona causerà malumori. Lavoro, su lavoro è il momento di prendere delle decisioni, ma è consigliabile non avere fretta, se si tratta di cose importanti. Il momento di prendere delle soluzioni, per altri due anni, è consigliabile non avere fretta, se si tratta di cose importanti. E iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.